buongiorno benvenuti in questo nuovo video allora oggi vi portiamo al museum of dreamer a roma e nella nostra città quindi siamo fortunati plurale 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 va bene adesso ve lo facciamo vedere dicono che ha una manifestazione fantastica c'è un posto bellissimo e quindi niente ci vediamo fra poco la dentro ciao ciao a heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in fire we wanna chase the night wanna dance to the light pour the stars from the sky just two hearts running wild never sleep never stop every shot from the top we're gonna we're gonna be two hearts running wild we'll see we're dancing Buongiorno a tutti. il muro dei sogni e lì si è attaccato il bigliettino eccoci qua te lo sei perso? vediamo un po' se lo ritroviamo sono tanti i sogni ma proprio tanti 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 non te lo ricordi dov'è? è qua oh io vorrei fare teatro bello non me lo fai fare non ce lo dici il tuo no sia di pronto c'è non c'è la mincella non c'è la mincella dalle scale non c'è la nostra me asip vieni 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 è scomparso benissimo quanto è divertente quanto è divertente andiamo alla gonfilla vai è di bellezza scivolo 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Per un milione di dollari non lo farei Non lo faresti per un milione di dollari? Vabbè io pure per mille dollari lo farei E per uno Non lo faresti per un milione di dollari? 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perché no, perché dovresti ricominciare da capo Andiamo allo store Le cose kawaii Anzi, scusa Madonna, guarda qua Queste cose Oddio Le sapate Dreambox Oddio che bello Le cuffiette Con l'unicorno Con l'unicorno Faro orecchie La box è così? La fantaluva Aiuto 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 La nostra salvatrice Perché il zappare abbiamo assaggiato la fantaluva e era delizio È buonissima la fantaluva Solo che in Italia non si trova Invece sì Eh vabbè, qua Però io non l'ho vista Tipo nei supermercati Avete visto la fantaluva nei supermercati? No Nei supermercati no, ma nei negozi sì Alcuni negozi sì Anche perché ci sta coso? Come si chiama? Tiger? No Mini saw? No Cioè là ci sta Eh Tu Che hai preso? Che cosa hai toccato? Sì Era un tentativo Misero tentativo No, quel negozio che fa solo dolci, enorme Eeeh Che apertura c'è in città 2 Ah Ehm Ehm Non lo so Ah ok Ci abbiamo fatto anche il video Mamma Oddi store Oddi store Ok Vedi vedi Oddi store Oddi store Mamma Ehi Mi fate prendere quella Tu non prendi niente Io voglio un caffè No E anche il caffè Sì Sì Eccoci qua Melissa che cerca di rifilarmi un muffin che non le va Comunque siamo uscite dal museum of dreamer Giusto? Dreamer Dreamer Dreamers Dreamers Plurale Ma va bene Insomma Plurale Ecco Eeeh Bello 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 Se potete Visitatelo Perché è veramente bellissimo Il costo è basso Il costo non è eccessivo Ne vale la pena Veramente ne vale la pena Eeeh E niente Ed è un sacco bello Vi chiediamo se volete di iscrivervi Lasciare un mi piace E poi vi ricordiamo sempre che Melissa A 50.000 iscritti faremo la nostra prima live Esatto Non manca tantissimo Non manca tanto Potete anche farci domande sulla nostra vita Esatto Ci connesseremo meglio Parleremo di noi Con questo vi salutiamo Ci vediamo al prossimo video E ciao Ciao Meli e Mami E non so nemmeno come mi chiamo Ciao ciao Ti chiama Silvia Silvia Ciao 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 Ciao